Arrestato il rapinatore con la siringa e un suo compice. A catturarli i carabinieri dopo un'indagine durata un mese è partita il 21 febbraio scorso, giorno in cui i banditi hanno rapinato la tabaccheria Barbieri di via Manzoni. Quel pomeriggio uno dei due entrò nel negozio e minacciò con una siringa piena di liquido rosso la titolare in quel momento al telefono. La donna scappò sul retro del negozio mentre il rapinatore cercò il denaro per poi fuggire sull'auto del compice in attesa in via Faerno. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine sul posto erano intervenuti i carabinieri che iniziarono le ricerche. Non lontano dal parcheggio delle tramvie di via Danti i militari ritrovarono un giaccone di colore beige, un paio di scarpe di colore marrone scuro del tutto simili per fattura e colori a quelli descritti dalla titolare della tabaccheria come indossati dal rapinatore. All'interno di una tasca del giubbino veniva anche rinvenuto il tappo di una siringa sporco di sangue. Gli investigatori acquisirono inoltre le immagini delle telecamere di sicurezza. Quelli che vedete sono i fotogrammi che ritraggono i due banditi poco prima della rapina. In altre sequenze si nota l'auto utilizzata nella fuga, una Peugeot 206 color carta da zucchero. Tramite la video sorveglianza i carabinieri sono riusciti a ripercorrere il tragitto fatto dai due banditi e a tenerli sott'occhio per qualche giorno per raccogliere ulteriori prove a loro carico. Sabato 24 marzo gli arresti. Il rapinatore cremonese di 47 anni è stato rintracciato a Casalmorano mentre il complice di 36 anni è stato arrestato in via Postubia davanti al SERD. Gli arrestati sono stati accompagnati e reclusi presso la casa circondariale di Cremona mentre gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali collegamenti dei due rapinatori con altri episodi molto simili avvenuti negli ultimi mesi. Grazie a tutti.